Sono trascorsi dieci anni quando Marsala perse una o forse delle più belle penne che abbia mai espresso. Il collega Nino Culicchia è deceduto in Romania durante una missione umanitaria a portare sostegno in quella popolazione insieme al Comune di Marsala. Oggi ci troviamo qui per commemorare la sua scomparsa ma anche e soprattutto per dare un segno di riconoscimento a quello che ha rappresentato il collega Nino Culicchia per questa comunità, per questa città, per questa Sicilia in cui ha dato tanto con la sua penna. Hanno intitolato, fra poco si è scoperto a Targa, la sala stampa del Comune di Marsala, lo scomparso collega. Nino Guercio, lo hai sostituito all'ufficio stampa dopo che Nino è deceduto? È stato un impegno molto gravoso. Ma guarda, sostituire Nino era impossibile. Abbiamo cercato con Sandro e con Giancarlo di portare avanti l'ufficio e di non farne sentire la mancanza. Insomma, Nino è stato un grande. Nino è stato chi? È stato maestro mio, di Sandro e forse anche di Giancarlo Marino. È stato l'uomo che ha saputo dare un aspetto davvero eccezionale a quella che è l'informazione istituzionale. Lui veniva dalla pizzata, come io dico, come me, come Giancarlo. E poi chiaramente si è proposto in veste istituzionale. In veste istituzionale ha fatto la storia degli uffici stampa in Sicilia. È stato sicuramente una persona che ha dato tanto a questa città. E sono convinto che il fatto di avergli intitolato, e di questo sono grato al Commissario straordinario, al Presidente del Consiglio Comunale, al Signor Prefetto e a tutti coloro che hanno accettato l'iniziativa partita da me, da Sandro e da Giancarlo, intitolato la Sala Stampa. E credo che sia semplicemente un piccolo omaggio ad un grande nobiluomo della nostra terra di Marsala. Sandro Tarantino, diciamo che per te è stato un po' un padre reputativo del giornalismo e in un altro settore ti ha voluto al suo fianco e ha fatto di te un giornalista in questo ufficio stampa. Sì, io definisco il mio maestro e continuo a averlo presente quando scrivo tutti i giorni, quando facciamo comunicazione, quando mi deletto magari a scrivere su qualche quotidiano o periodico locale. Sì, è un grande, soprattutto devo a lui quella che è la conoscenza sia del mondo giornalistico ma soprattutto di quella che poi è stato l'enoturismo perché l'immagine della città di Marsala, l'immagine turistica di Marsala, l'immagine enoturistica di Marsala, devo dire che nasce con lui, con quello che ha saputo fare nell'ufficio stampa, con la sua comunicazione d'immagine, parliamo degli anni 90 che erano gli albori dell'enoturismo ma lui è stato davvero un precursore di quella branca di turismo e fortunatamente ancora oggi continuiamo anche a lavorare grazie a lui. Dalle pagine della stampa locale al giornale Sicilia, a testare giornalistiche molto famose e pregiate, è stato un tuo compagno di viaggio, qual è il ricordo di Nino? Ma il ricordo di Nino è da quando avevo, come si suol dire, i pantaloni corti perché io ho conosciuto Nino a 14 anni perché ho iniziato nel 72-73 questa attività, allora al Vomere, io andavo al quarto ginnasio, immaginate un po', ho 14 anni, 15 ancora da compiere e abbiamo iniziato sul Vomere e allora col ragioniere Riccardo Rubino, direttore, ed è stata veramente un'esperienza bellissima e Nino mi ha contagiato, diciamo, questa passione, lui allora aveva iniziato anche qualche mese prima di me per, ripeto, stagione calcistica perché ho iniziato con lo sport e poi ho continuato quasi sempre, diciamo, seguendo la pagina sportiva e Nino è stato veramente il mio maestro. Poi qua al Comune sono entrato nell'88 e quindi permettetevi, però ho 15 anni di anticipo rispetto a chi l'ha conosciuto qui al Comune. Nino veramente un grande, un maestro, una passione, lavorava di notte. Per lui le giornate, quando si occupava di giornalismo, duravano veramente 20 ore, 21 ore. Questo non dormiva perché c'era da fare la pagina del Trapani Sera, la pagina del Vomere e poi ha iniziato con Nuovi Orizzonti e io sono stato tra i primissimi a collaborare assieme a San Martano che oggi abbiamo qua, assieme a Peppe Clemente che pure ci ha lasciato prematuramente ed erano giornali che noi facevamo la notte perché si studiava, anche Nino lo studiava e con un leggero ritardo poi ha completato il suo percorso universitario, però la passione era tantissima e siamo riusciti anche a completare gli studi universitari, ma soprattutto Nino è riuscito a diventare un grande del giornalismo, come hanno detto già i miei colleghi, è stato il pioniere degli uffici stampa, uno che credeva in questo lavoro e credo che se il destino non fosse stato così avverso e crudele con lui sarebbe diventato un grande, avrebbe fatto veramente delle collaborazioni strabilianti perché lui già in Rai è arrivato nei notiziari di Televideo, Rai 3, aveva contatti e aveva le capacità di emergere anche a livello nazionale. Io che devo dire, mi unisco a voi, condivido tutto quello che avete detto, anche per me Nino Culicchi ha rappresentato tantissimo, abbiamo fondato assieme negli anni 90 una televisione a Marsala la Rete 6 e di cui io sto continuando questo progetto perché l'emittente ha cambiato nome, si chiama Video Sicilia, questa esperienza come ho dato con lui ha portato ad aprire l'emittente televisiva Video Sicilia a Marsala e quindi a lui, come tantissimi che hanno la mia età o sono la mia generazione, devo tantissimo a Nino Culicchia, che Nino Culicchia darà su ci guardi e ci protegga e dia una mano a noi colleghi e quindi abbiamo tanto bisogno. Grazie. Grazie.